Ciao a tutti, oggi è il compleanno di Carlo Nico McBrain Carlo Comunque, caro Carlo, che viene anche spesso sotto il live di forno a salutare lui ha un gran bellissimo canale YouTube dopo vi metterò il link in descrizione che fa anche diverse interviste a varie persone tra l'altro delle volte sono stato anch'io in live con lui mi ha intervistato a me e poi altri musicisti come Cristiano Voltaggio cioè musicisti, cioè io non sono un musicista non vorrei, vabbè, comunque dedicherò a Carlo appunto che ha dato tanti auguri, buon compleanno, tanti auguri a te e saluto anche Cioppi, il tuo cane allora Carlo, in questo video ti omaggerò con questa performance estemporanea grazie a tutti la performance era terribile era veramente qualcosa di... però, però, però cosa voglio dire? da grandi poteri ti arrivano grandi responsabilità e quindi oggi tu compi gli anni e non c'entra niente quello che... comunque tanti auguri... tanti auguri e niente... volevo dire buon compleanno e Carlo sei mitico e quindi hai fatto una bella cifra tonda di anni e quindi ti auguro tante 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 cose belle che vada anche bene il tuo canale YouTube però in generale l'importante è che vada bene tutta la tua vita e che tu passi... passi delle gram bellissime e felici giornate! ciao a tutti! ciao a tutti! ciao Carlo! ciao a tutti! 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 ciao a tutti!